buongiorno questa qua la mia collega di lavoro stiamo andando a lavorare guardate che giornata splendida 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 giornata guarda che sole splendente sono le 11 meno un quarto stiamo andando a lavorare abbiamo parcheggiato la macchina al centro commerciale noi lavoriamo a possa playa che è un praticamente venezia di valencia un posto meraviglioso stupendo e niente io sto da dio sto benissimo e ho passato tutto vado a lavorare vi faccio vedere un pochettino un pezzettino di strada e faccio vedere dove lavoro che è un posto meraviglioso è bellissimo ma se io lo voglio essere lo voglio essere però ora si frio si ora si ora è il verano che viene si vedi che stanno facendo yoga è un posto spettacolare con te non so se lo stiamo facendo dormire e poi siamo arrivati a lavorare e vieni che sono me ne sono ieri che sono ieri che sono vieni che ho fatto Oggi 13 di dicembre, gente, il 13 dicembre, siamo al Vlogmas 14. Bellissimo, la gente che fa yoga al fondo, qua, non so se riuscite a vederlo. Allora, questa qua, la parte del nautico, di Bossa Flaya. Adesso entriamo dove, praticamente dove lavoro. Questi qua hanno montato l'aulita, è una, non so, un'attività dove fanno yoga, fanno surf, fanno tutto sotto prenotazione, le tute da surf. Bellissimo. Io quest'anno volevo farlo, ma non ho avuto realmente tempo, dalla stagione dell'anno prossimo, sicuramente. Che ti dici, oh? Io lavoro in questo posto meraviglioso. Adesso andiamo a correre perché c'è un sacco di gente. Guarda, lavoro qua. È un posto spettacolare. Io ho i capelli controvento, ho finito adesso di lavorare e voglio farvi vedere, anche se è notte, la Bossa Playa. Molto, molto, molto carina, un posticino che ne vale proprio la pena di vedere. Giro la telecamera. Purtroppo è sera, perché siamo usciti stamattina. Io entro alle 11, adesso sono le 6, le 6. Guardate che posto bellissimo. È molto carino. Il mare è dall'altra parte, questa qua è la parte interna del canale. Molto, 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 molto carino. Sinceramente quando sono entrata a lavorare mi sono dimenticata che volevo fare un video durante il giorno della parte interna. Vi lo farò la settimana prossima. Però veramente molto carino. Molto carino. Adesso sto andando verso la macchina e passo dalla parte del mare. Bellissimo. Posta Playa è stupenda. Bella, 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 bella. La gente e il presepe che hanno fatto qua in Piccassenzo. Sono passata in banca a fare una operazione. Guarda che bello. Bellissimo. Proprio. Guarda un gattino. Magari stava dormendo. Guarda. Molto carino. Sono tornata a casa. Guardate la mia Tamara. Come mangiucchia. E la pianta di finocchio. Gli piace tantissimo. Che tenera. Gli piace tantissimo. Anda partita stava dormendo. Eccomi, dopo il lavoro mi strucco, uso un olio per struccarsi, sono proprio cotta, massaggio bene 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 su tutto il viso, poi lavo il mio faccino e uso anche il sapone perché non mi è andato via niente, io uso anche il latte struccante perché proprio la mia energia vale zero, a parte il sapone questo qua va benissimo con il viso però non toglie via il trucco, mi strucco bene bene bene, tolgo via tutto, dopodichè uso il mio acqua nutriente, buonissima che io adoro, dopodichè uso la mia crema contorno occhi di Clinique, 96 ore, idratante, la massaggio bene bene nel contorno occhi, se avete la pietra di Giada passatela, io mi sono dimenticata sinceramente, la uso quasi tutti i giorni ma ero proprio cotta e uso la crema magica, quella per le occhiaie e che il prossimo video se vi interessa vi faccio vedere il risultato finale perché l'ho usata per dieci giorni e solamente su un occhio, un'occhiaia dove vi spiegherò tutto nel video in frattempo devo aspettare tre minuti che si asciuga la crema, in frattempo me lavo i denti si asciuga, si asciuga, si asciuga, niente, adesso metto la mia maschera notte fantastica, meravigliosa, io adoro, cavoli, mamma mia, mi è caduta una goccia nel lavandino, però fa niente dai, che spreco, andiamo a massaggiarla sul viso, veramente il giorno dopo avete la pelle fantastica, fantastica e soprattutto ovviamente la usiamo anche sul collo, in frattempo guardate già mezzo risultato, non vi dico che giorno è del trattamento, guardate la differenza, non so se contro luce riuscite a vedere però veramente guardate voi, lascio a voi il commento, comunque bella gente, spero che vi è piaciuto il mio video, se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto scrivetemi dei commenti, ciao bella gente!